E' un giorno speciale oggi, è il giorno in cui riaprono le scuole, con bambini e bambine che non vedono l'ora di rivedere i compagni di classe o di fare nuove amicizie. Un giorno speciale per loro, così come per i docenti che ritornano dietro le cattedre o i dirigenti scolastici pronti ad un nuovo anno. Un'occasione, quella della giornata inaugurale, dove partecipa anche l'amministrazione comunale, con un vero e proprio tour tra le scuole della città. Ho avuto piacere di fare questo giro perché ho trovato tanto entusiasmo, tanto entusiasmo sia da parte delle persone che lavorano all'interno delle nostre strutture. E' bello vedere appunto le persone che non vedono l'ora di riniziare a lavorare per poter stare insieme ai bambini. Noi ce la stiamo mettendo tutta per riuscire anche a creare strutture sempre più accoglienti, perché da una parte è importante riuscire a dare il servizio come numeri e anche come qualità, ma dall'altra parte è importante anche riuscire a mettere a disposizione strutture sempre più sicure, ma soprattutto più belle. Non è semplice perché le risorse necessarie sono tante, però l'impegno che abbiamo preso in questi anni è anche quello di riuscire a riqualificare e recuperare ancora di più questi spazi. Devo dire che comunque sono spazi belli, non è che si parte dal nulla o si parte da strutture particolarmente che hanno problemi particolari, ma possiamo migliorare ulteriormente e secondo me è un servizio che dobbiamo continuare a sostenere, sia dal punto di vista della quantità di posti che siamo in grado di poter dare alle famiglie, ma soprattutto anche della qualità degli spazi che riusciamo a mettere a disposizione. Ho detto che in questi anni non è nostra intenzione ridurre quelle che sono le risorse per le politiche educative, siamo di fronte a un cambiamento e da una parte le esigenze delle famiglie stanno cambiando, dall'altra parte c'è comunque il calo delle nascite. Tutte queste nuove condizioni ci devono portare a ripensare e a mettere in piedi un modello che è sostenibile, sia per l'amministrazione dal punto di vista economico, ma anche sostenibile per i cittadini, cioè per far sì che le famiglie possano trovare lo spazio per i loro figli, perché comunque portare i ragazzi all'interno di queste strutture è comunque importante, non solo perché le famiglie devono andare a lavorare e quindi non sanno magari dove poter mettere o comunque chi può ottenere i loro figli, ma soprattutto perché è importante dal punto di vista educativo e formativo, perché non ci dimentichiamo che l'asilo non è un deposito dei bambini, un asilo è un posto dove i bambini, grazie alla qualità degli insegnanti che ci lavorano, riesce a crescere in maniera migliore, riesce a confrontarsi con i ragazzi, con i propri amici e si fanno poi quelle amicizie che poi durano per tutta la vita. Il primo giorno di scuola è sempre un giorno emozionante, non solo perché si apre un nuovo capitolo di quella che è la storia scolastica, ma anche perché si vive, si percepisce l'emozione delle famiglie, dei docenti, di tutto il personale scolastico e delle ragazze e dei ragazzini, che entrano per la prima volta, come abbiamo visto questa mattina, in una scuola nuova. Tante sono le scuole che quest'anno abbiamo recuperato e su cui abbiamo fatto degli interventi importanti. Questa mattina insieme al sindaco e agli altri assessori visiteremo solo alcune di quelle che sono state toccate dagli interventi che grazie al PNRR e grazie anche ai fondi della SIRAM siamo riusciti a recuperare, più quelli che la nuova amministrazione ha messo in campo per efficientare, migliorare la vita all'interno delle scuole. Lo dico spesso, il benessere delle bambine e dei bambini all'interno dell'ambiente scolastico è un fattore importante perché assicura non soltanto uno stare meglio a scuola, ma questo stare meglio a scuola significa avere la possibilità di una crescita migliore e di crescere quindi in una maniera più strutturale e che possa portare anche al raggiungimento di obiettivi e alla realizzazione dei sogni.